Book 2 20 Small talk Chiacchiere Uno Si accomodi Faccia come a casa sua Che cosa desidera da bere? Le piace la musica? Mi piace la musica classica. Ecco i miei CD. Suona uno strumento? Ecco la mia chitarra. Le piace cantare? Le piace cantare? Ha figli? Ha figli? Ha un cane? Ha un cane? Ha un gatto? Ha un gatto. Ecco i miei libri. Ecco i miei libri. Sto leggendo questo libro. Sto leggendo questo libro. Che cosa le piace leggere? Che cosa le piace leggere? Va volentieri al concerto? Va volentieri al concerto? Va volentieri a teatro? Va volentieri a teatro. Va volentieri all'opera? Va volentieri all'opera. Visita il sito www.book2.d www.book2.de per il libro e per i testi.